I supereroi vogliono portare il loro cibo in un bar. Chi riuscirà e chi fallirà? Guarda Troom Troom Food per scoprirlo. In che modo i supereroi condividono la ricompensa? Hanno bisogno di una battaglia. Bad Boy e Mega Boy sono pronti per una lotta. Tuttavia è una lotta virtuale. Qualcuno ha iniziato a lavorare a maglia? Ah, è Cat Girl. La sicurezza è totalmente una persona da compagnia. Perché inseguire una palla quando dentro c'è un gustoso pesce? Questo gatto è davvero furbo. Dite addio al vostro cibo, supereroi. Nessuno può fermare l'afflamato Flash Boy. Forse Mega Boy può. Flash Boy dovrà restituire tutto il cibo rubato e pagarne il prezzo. Non c'è nessuno più bello di Super Maid. Spider Boy si innamorò e perse completamente l'appetito. Vuole davvero cenare con lei. Ha deciso di usare le tagliatelle al posto delle trecce di Cupido. Sembra che gli sia mancato. Che peccato! Nessuno può sfuggire alla guardia di sicurezza. Chi c'è? Sorpresa! È Strange Man! Che carino! Tuttavia dovrà dire addio al cibo. È il giorno fortunato della guardia giurata. È ora di aprire il portale e riavere le parrette di cioccolato. È troppo tardi. Anche la guardia giurata ha una sorpresa. Prendi questo, Strange Man! Il supereroe ha perso. Aspetta un minuto. Wow Girl è già stata qui. Wow Girl è già stata qui. E si è intrufolata in un lazzo commestibile. Non può fare lo stesso trucco due volte. Sciocca guardia di sicurezza. Questa è una vera corda. Non poteva superare in astuzia Wow Girl. Sbagliato di nuovo? Buon appetito, signorina. È una cattiva idea intralciare il cammino del supereroe. Thunder Boy è in piena armatura. Ed è così gustoso. Coprite la torta con la panna. Anche questa, anche questa. E aggiungete la seconda metà dell'impasto. Distribuire la crema su tutti i lati. Top con uno strato di fondente. Decora la torta con i simboli. Avvolgere i grissini in pasta di zucchero colorata e tagliare l'eccesso. Aggiungi delle decorazioni. Montare un martello e coprirlo con la candurina. Una torta per Thunder Boy è pronta. Il supereroe dovrebbe stare più attento. La guardia di sicurezza non ne è contenta. Ah, non riesce nemmeno a sollevare la torta. Thunder Boy è imbattibile. E ha un appetito da supereroe. Ma Magnet è venuto a cena. Perché chiamare un cameriere quando puoi avere tutto il cibo da solo? Una ciotola di metallo con gelatina. È proprio ciò di cui hai bisogno. Quasi finito. Ma dove sono gli utensili? Oh, non è giusto. Proviamo di nuovo. Non ci sono utensili disponibili. Ma Bat Boy ha un cucchiaio. Non ha finito di mangiare la sua zuppa. La lotta per il cibo è iniziata. E Bat Boy l'ha persa. Ed è il giorno fortunato del signor Magnet. È potente. Ma non molto educato. Buon appetito, signor Nessuna Educazione. Super Maid vuole anche andare al bar. La guardia giurata non si lascerà ingannare dai suoi trucchi. Troverà cibo ovunque si trovi. Sembra tutto a posto. Prendi una crosta di pizza. Usa un modello e un coltello a rullo per ritagliare un pezzo di un super uomo. Quindi spolverizzatela con formaggio grattugiato. E sopra mettiamo delle fettine sottili di salame in modo che abbia la forma di una S. Cuocere in forno e voilà. Oh no! Il curioso Flash Boy ha rovinato tutto. Questo non è il simbolo di un supereroe. È una pizza al salame. Super Maid è davvero brava con l'artigianato. Flash Boy ne pagherà il prezzo. Vivi l'ira di Super Maid! Le sue mani si trasformano in blocchi di ghiaccio. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ma la pizza è meglio servita calda. La guardia di sicurezza lo manterrà. Sta passando una giornata molto migliore di Flash Boy. Qualcosa non sembra a posto. Bat Boy ha un segreto. Mescolare farina, burro, latte e colorante alimentare. Quindi impastare la pasta. Ritagliare i segni dei pipistrelli. Metteteli in forno e infornate a 160 gradi. Gli snack di Bat Boy sono pronti. Non puoi portare il tuo cibo in mensa. Questi non sono cibo. Questi sono Batarang. Se li lasci, colpiscono direttamente il bersaglio. Ma è meglio non farlo. È una cattiva idea scherzare con Bat Boy. La guardia di sicurezza è una storia completamente diversa. Ha avuto paura dei biscotti? Super Plan ha funzionato. Red Bull trasporta del cibo. È ora di controllare. Il supereroe si è messo nei guai. E anche la guardia giurata. Sciogliete il cioccolato e versatelo in uno stampo usando una sacca poche. Mettilo in frigo. Dipingi la pistola al cioccolato con candurin. Profuma di... cioccolato. Un disastro. Una pistola d'acqua è molto più pericolosa di quest'arma. I supereroi sapranno come comportarsi la prossima volta. Questo caffè è solo un supereroe. Oh, è Green Archer. Solo un minuto. La guardia di sicurezza deve controllare il cibo. Non si è accorto di nulla, ma il pompiere ha trovato qualcosa di sospetto. Ci sono Marshmallow al posto delle punte di freccia. Sembra che manchi qualcosa. I Marshmallow fritti sono molto più gustosi. Oh, c'è un incendio. Hanno bisogno di spenderlo. Scusa, Green Archer. Hai perso il tuo costume da supereroe. E anche la cena. Anche i supereroi hanno brutte giornate. Ehi, questo anello sembra un po' strano. Forma un anello di pasta di zucchero e fai un buco al centro. Dipingilo con candurin. Sciogliere l'isomalto e versarlo in uno stampo. Decora la parte superiore dell'anello con glitter e attacca una pietra commestibile. Un anello magico è pronto. La guardia di sicurezza non dovrebbe ridere. Questo anello può rendere cieca una persona. Ups! Dov'è il supereroe? Oh no! Ha bisogno di un caricabatteria al più presto. Forse ce l'ha la guardia di sicurezza. Ma la guardia di sicurezza gli dice di perdersi. Non è il giorno fortunato di Green Archer. Ha del cibo, però. I dolci non gli rendono la vita più dolce. Pensa che sia ora di lasciare la sua carriera da supereroe. Ehi, non puoi portare questo scudo con te. È l'unico modo per entrare nel bar. Ma tutto deve tornare. Copri lo scudo di Commander America con colla commestibile e attacca gli snack. Decora il cerchio esterno con patatine. Quindi coprire le arachidi con wasabi e formaggio e attaccare anche loro. Incolla le salcicce al centro. Una stella di formaggio completerà il piatto. Un piatto di snack è pronto. Ehi, comandante, condividi con il tuo amico. E con un altro amico. Sembra che Commander abbia attirato molti nuovi clienti. C'è una fila enorme che aspetta fuori. È quello che fanno i supereroi. Ma a volte rimangono affamati. C'è una fila enorme che aspetta fuori.